Il mercatino di Beniamino, donne e massaie d'impiegate, il mercatino di desiderate, donne massaie casalinghe, ci trovate anche le stringhe, il mercatino del vostro bambino, giocattoli, profumi d'acqua e di rose, catanimo tutte cose. Non fa prova a me? No, no, questo è il mio lavoro, non è una pazzella. No, fammi provare, non l'ho mai provato a parlare dentro del microfono, dicelo. E dai, e beniammi, fallo provare un pochettino. E fallo provare un pochettino. E tenne questo microfono. Un minuto, non c'è un'acqua, un minuto. Sa, sa, sa uam, sa uam, donna bella donna, donna bella donna, eccoci qua, il fulconcino della ferocità, eccolo qua, e non ti ha attenzione, sveglio, ma tu mangiù, ne ha? Sempre tu il mio chiodo fisso, mi mangia un bel risotto allo scoglio. Dammi qua! E' un momento, va bene. E' un momento. E' un momento. E' un momento. Prendi, prendi, prendi. Prendi. Eh, prendi. Eh, prendi. Eh, prendi. Eh, vabbè, su, non esagerare. Eh, no, sei, sei cupo, sei, c'è un retroverso. C'è un carattere come un utero. Non mi senti vero. Oh, no, quello faccelo. Avrò un brutto carattere, però un bel corpo. Beh, certo, beniamiche, pure te spari certe cazzate, però... Eh, eh, eh. Questa l'hai sparata a croce, è iperbologa, oh! Pa, pa, pa! Pa, pa, pa!